Mancano nove giorni all'apertura dell'anno scolastico, al suono della prima campanella come si suol dire. Lei ieri ha incontrato i dirigenti scolastici, i presidi delle scuole di Pescara, qual è la situazione? Allora, ieri mattina abbiamo incontrato assieme al mio staff che segue tutta l'edilizia scolastica, tutte le progettazioni per le scuole, abbiamo incontrato i dieci presidi con i quali abbiamo condiviso alcune scelte. Loro inizieranno l'anno scolastico tutte quante il 12, tranne il comprensivo 1 che comincerà il giorno 8, però abbiamo condiviso un po' vari argomenti. Innanzitutto la settimana corta che ormai attueremo in tutti i comprensivi di Pescara. Noi ieri abbiamo fatto una delibera che ho inviato alla preside del comprensivo 2, Maria Grazia Santilli, che sottoporrà all'attenzione del Consiglio d'Istituto, quindi prenderanno una decisione tra oggi e lunedì. Tutte le altre scuole invece apriranno i battenti lunedì e chiuderanno il venerdì, quindi sabato e domenica saranno chiuse tutte le scuole, comprese gli uffici. Questione Covid, quali sono le direttive, Assessore? Allora, per adesso si parte in tranquillità, l'unico problema che io ho posto ai presidi è stato quello della mensa, di continuare a sfruttare e far mangiare i ragazzi nelle classi. Fra un mese, quando ci renderemo conto, speriamo che tutto torni alla normalità, posseremo tornare nei refettori. Per chiudere, Santilli, si parla di risparmio energetico, di termometri, dei termosifoni non oltre i 19 gradi. Insomma, quali sono le direttive governative? Allora, le scuole non saranno toccate, continueranno ad avere la temperatura come era già l'anno scorso, tarata a 19 gradi e si accenderanno i termosifoni regolarmente come è sempre stato, quindi da lunedì al venerdì ci sarà un orario consono per far sì che i ragazzi non si ammalino e questa è la priorità per noi.